Nell'ultima settimana ne sono successe di cose a partire dal rilascio dei nuovi iPhone 14 e 14 Plus nella nuova colorazione gialla e insieme a questo annuncio Apple ha anche comunicato l'arrivo, anche in Italia, della funzionalità SOS satellitare per le chiamate di emergenza quando non c'è copertura GSM ma poi in questi sette giorni non sono mancate le novità sul futuro dell'azienda di copertino con qualche rumor veramente interessante sui piani futuri dell'azienda per quanto riguarda la linea iPhone ma parleremo di tutto questo all'interno del video di oggi quindi lasciamo partire la sigla e poi cominciamo subito Prima di cominciare le solite raccomandazioni lasciate subito un like a questo video, iscrivetevi al nostro canale se ancora non lo avete fatto e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche per essere ogni volta avvisati quando pubblichiamo un nuovo contenuto inerente al mondo Apple Se poi vi va seguiteci anche sul nostro sito di internet iPhoneItalia.com per tutti gli aggiornamenti in tempo reale Come ho detto in apertura questa è stata la settimana in cui Apple ha ufficializzato tramite un semplice comunicato stampa l'arrivo dei nuovi iPhone 14 e 14 Plus nella colorazione di metà ciclo di vita ossia come fatto già negli ultimi anni con il verde e con il viola quest'anno Apple propone un colore aggiuntivo per i due iPhone base che è il giallo un giallo un po' spento però secondo me carino forse di quelli che poi nel lungo non va a stufare questi iPhone saranno disponibili in store dal 14 marzo e in preordine dal 10 chiaramente il prezzo resta quello di iPhone 14 e 14 Plus nelle rispettive altre versioni di colore ma Apple ha colto anche l'occasione di questo annuncio per confermare che la funzionalità SOS satellitare per le chiamate tramite satellite in caso di emergenza quando non c'è copertura GSM nel posto in cui ci troviamo verrà estesa a nuovi paesi entro la fine del mese tra cui anche l'Italia questo con ogni probabilità con il nuovo aggiornamento software cioè iOS 16.4 che Apple sta già testando e che io ho da tempo ormai sul mio iPhone 14 Pro Max ho avuto modo di vedere in azione la funzionalità SOS satellitare in UK dove questa caratteristica era già disponibile non vedo l'ora come magari molti di voi di sperimentarla anche nel nostro paese e parlando di questo iOS 16.4 che dovrebbe abilitare la funzionalità SOS satellitare anche in Italia siamo arrivati alla beta 3 dove questa funzionalità per il momento non sembra esserci ma ci sono ancora modifiche per una delle più grandi novità di questo aggiornamento cioè come vi ho detto in un altro video cambia con 16.4 la possibilità di installare beta sul dispositivo diventa per certi versi più semplice ma per certi versi anche più complesso dopo secoli ci si slega dall'idea del profilo developer o di testing Apple ma si passa a un sistema molto più semplice in cui se sei registrato come sviluppatore o come tester pubblico avrai nell'app impostazioni aggiornamento software la possibilità di scegliere se installare versioni ufficiali stabili oppure versioni beta rispettivamente developer o utente questa novità aveva un po' spiazzato gli utenti che magari come me hanno un Apple ID utilizzato come Apple ID personale con tutta la roba di iCloud, l'App Store e tutto ciò che utilizziamo di solito sul telefono e poi magari un altro Apple ID in cui invece c'è l'account developer quello che utilizziamo da secoli noi tutti per testare le beta e raccontarvi anche le novità questa modifica di 16.4 dava all'inizio soltanto fino alla beta 2 la possibilità di avere l'account developer sul dispositivo e quindi su quel dispositivo installare unicamente le versioni beta se invece avevi un account non developer come nel mio caso non potevi più installarle dovevi fare il logout da quell'Apple ID e passare all'Apple ID developer adesso invece con la beta 3 questo problema viene risolto perché infatti per gli utenti che avranno sia un tipo di account che l'altro sarà dato modo di fare il login in entrambi i casi quindi si potrà continuare a mantenere l'account principale standard sul dispositivo e poi legare un account developer per abilitare il download delle beta tutto questo ci prepara ad un iOS 17 che probabilmente verrà aggiornato così da molti in beta a giugno e poi tutte le prossime beta saranno gestite in questo modo rinunciando al download e all'installazione dei profili che effettivamente è un sistema ormai di download e configurazione delle beta davvero tanto vecchio e superato prima di arrivare all'iPhone di cui parleremo in particolare in questa puntata vi voglio dare due aggiornamenti su iPhone 15 il primo sono queste immagini rubate da un video leaked che mostrano la parte frontale del dispositivo una parte frontale che poi alla fine non si distingue così tanto da quella di un iPhone 14 Pro o di un iPhone 14 Pro Max perché notiamo chiaramente la disposizione degli elementi dell'isola dinamica quindi il nuovo notch di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max verrà riproposto come sappiamo su iPhone 15 Pro e su iPhone 15 Pro Max ma con buona probabilità anche su iPhone 15 e iPhone 15 Plus che dovrebbero appunto integrare quest'anno a differenza dei 14 l'isola dinamica l'altro dato che sembrano confermare queste immagini è che le cornici soprattutto sui modelli Pro saranno ancora più ridotte rispetto a quanto lo siano attualmente chiaramente mantenendo l'uniformità e la simmetria che conosciamo praticamente da sempre su iPhone ma arrivano invece nuovi rumor sulla famiglia iPhone 15 in particolare sui modelli standard che nonostante guadagneranno l'isola dinamica non avranno due caratteristiche che insomma ormai sarebbe stato bello vedere anche sui modelli che poi entry level lo sono solo per la famiglia iPhone ma comunque parliamo di telefoni che costano 1000 euro e ormai ci siamo abituati se diamo anche ogni tanto uno sguardo al mondo Android a vedere che ci sono smartphone da 200 euro che utilizzano il refresh rate variabile fino a 90 Hz come minimo se non 120 gli iPhone attualmente sono limitati nella versione standard a 60 Hz che è praticamente il refresh rate che gli iPhone hanno avuto sin dall'iPhone 2G se non vado errato mentre sui modelli Pro da qualche anno abbiamo Promotion quindi il refresh rate variabile da 1 a 120 Hz bene pare che non sarà questa l'occasione nemmeno nel 2023 per estendere la compatibilità a Promotion anche agli iPhone base che invece non avranno questo tipo di refresh rate resteranno fermi ai 60 Hz quindi nessuna novità dal punto di vista della fluidità dello schermo e l'altra caratteristica che resterà esclusiva degli iPhone Pro anche quest'anno è l'always on display una caratteristica che Apple ha modificato nel corso di quest'anno partendo con una configurazione molto interessante innovativa rispetto a ciò che proponeva il mercato cioè l'always on che poi noi conosciamo cioè schermo attivo poi quando lo schermo si spegne resta comunque visibile anche lo sfondo oltre che tutte le informazioni quelle dei widget e dell'orario e della data e del meteo che quindi possono essere guardate anche quando il telefono è appoggiato sul tavolo poi con qualche aggiornamento credo con iOS 16.3 se non ricordo male è stata anche introdotta la possibilità di semplificare questo always on e avere un always on molto più simile a quello che abbiamo su Android quindi schermo nero, orologio e magari nemmeno le notifiche tuttavia come stavo dicendo questa caratteristica resterà anche nel 2023 esclusiva dei modelli Pro perché richiede lo schermo LTPO, pare almeno questa è la spiegazione che danno quelli ben informati sulla questione pertanto gli iPhone 15 e 15 Plus non avranno questa tipologia di schermo e non potranno utilizzare lo schermo always on così come l'ha pensato Apple ultimo dettaglio su iPhone 15 probabilmente però anche in questo caso solo per iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max o Ultra questi potrebbero essere i nuovi tasti del volume o meglio il nuovo tasto del volume Apple potrebbe passare o meglio ritornare a una forma del tasto del volume che ricorderà quella dei primi iPhone non ci saranno più i due pulsanti distinti anche perché si tratterà di un tasto capacitivo quindi anche per i tasti del volume un po' come sul vecchio tasto home dell'iPhone 8 non ci sarà una vera pressione meccanica che attiverà le azioni di aumento e riduzione del volume ma ci sarà questo riconoscimento del tocco in caso di pressione che andrà a modificare il livello del volume si dovrebbe però tornare almeno come forma all'idea di un bilanciere quello che una volta si chiamava bilanciere cioè un unico tasto che si muove a destra o a sinistra andando ad attivare i due tastini solo che come detto qui i tastini saranno virtuali quindi Apple dovrà riuscire a simulare quel tipo di feedback tramite vibrazioni dando l'idea di premere verso l'alto o verso il basso il bilanciere in modo tale da regolare il volume ma arriviamo al pezzo forte del video di oggi cioè i nuovi rumor su iPhone SE 4 e pare che Apple nel prendersi tempo per rilasciare questo dispositivo lo abbia completamente ripensato sostanzialmente vi ricordate quell'iPhone SE 4 che descrivevamo come un iPhone XR o un iPhone 11 che avrebbe introdotto il Face ID ma avrebbe avuto comunque delle sembianze un po' più tozze rispetto a quelle degli iPhone attuali una singola fotocamera bene prendete quell'idea e stracciatela un po' proprio come ha fatto Apple perché secondo quelle che sono le ultime informazioni non è stato cancellato iPhone SE 4 come progetto in generale è stata cancellata quell'idea di iPhone SE 4 ma l'iPhone SE 4 si farà e potrebbe essere uno degli iPhone più interessanti di sempre soprattutto dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo secondo le ultime informazioni iPhone SE 4 non si baserà più su iPhone XR e su iPhone 11 bensì su iPhone 14 avrà quindi l'estetica di un iPhone 14, le dimensioni di un iPhone 14 infatti si parla comunque di un iPhone con uno schermo da 6,1 pollici cornici più sottili e un notch ridotto proprio come quello di iPhone 14 base sarà integrato all'interno di iPhone SE 4 un modem 5G progettato internamente da Apple con connettività limitata alle bande sub 6 GHz dovrebbe di conseguenza dire addio al tasto Home e al Touch ID e ci sarà il Face ID non sappiamo se aggiornato come su iPhone 14 Pro o iPhone 14 magari in versione un po' più antica ma a quel punto credo che Apple non faccia problemi a metterci sull'iPhone SE così pensato proprio il Face ID di iPhone 14 che comunque è migliorato tanto rispetto al Face ID di un iPhone XR in ogni caso resta da capire quando vedremo questo dispositivo Ming-Chi Kuo, l'analista che ci ha informato di questa novità parla del 2024 difficile, molto difficile assistere a un rilascio di iPhone SE 4 nel 2023 proprio perché Apple ha scombussolato tutti i suoi piani inizialmente iPhone SE 4 doveva arrivare nel 2023 ma pensato appunto sulla base di un iPhone 11 quindi decisamente meno interessante insomma se considerate che un iPhone SE 4 potrebbe arrivare nel 2024 con queste caratteristiche, con un prezzo più ridotto e comunque magari con un processore che sarà quello di iPhone 14 beh, alla fine potrebbe essere veramente un iPhone molto interessante e che si venderebbe tanto a differenza forse degli iPhone precedenti perché sarebbe più moderno, più in linea con le aspettative del pubblico attuale e poi c'è da considerare anche un altro aspetto con ogni probabilità iPhone SE 4 guadagnerà una seconda fotocamera la Ultra Wide proprio come iPhone 14 e anche quella in termini poi di fotografia fatta con lo smartphone è una bellissima novità oggi iPhone SE 3 ha una sola fotocamera che per certi versi è un po' limitante non so voi ma io sono estremamente curioso di scoprire questo iPhone SE 4 suppongo che lo siate anche voi comunque commentate qui sotto e fatemi sapere quale idea vi state facendo su questo dispositivo e se magari potrebbe essere l'iPhone ideale per fare un upgrade dal vostro vecchio iPhone X o XS o se magari invece preferirete quel giorno andare su un iPhone 16 Pro Max o 16 Ultra direi proprio che per questo video è tutto un grande saluto da Andrea noi ci rivediamo settimana prossima con un nuovo video sempre qui sul canale YouTube di iPhoneItalia.com e qui sul canale YouTube di iPhone X